Come se i cittadini non avessero dato un'indicazione diversa in queste ore, come in campagna elettorale da più parti si è sostenuto che non si debba parlare con alcune forze politiche che in queste elezioni sono guarda un po' quelle che hanno visto crescere il loro consenso. Allora su questo consentitemi di fare un passo indietro. Le istituzioni europee in passato non sono mai state pensate in una logica di maggioranza e opposizione. Sono state pensate come soggetti neutrali, capaci di garantire così tutti gli Stati membri, indipendentemente dal colore politico dei governi di quegli Stati membri. Così gli incarichi apicali, Presidente del Consiglio, della Commissione, del Parlamento, più alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sono stati normalmente affidati tenendo in considerazione i gruppi con la dimensione maggiore e quindi tenendo in considerazione il risponso elettorale, indipendentemente da possibili logiche di maggioranza o opposizione, perché la logica della maggioranza e dell'opposizione si materializza nel Parlamento con maggioranze che tra l'altro cambiano da dossier a dossier data la complessità del quadro europeo. Oggi si sceglie di aprire uno scenario completamente nuovo e la logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di convenzio ad escludendum in salsa europea che a nome del Governo italiano ho apertamente contestato e che non intendo condividere. Se vogliamo rendere un buon servizio all'Europa e alla sua credibilità noi dobbiamo dimostrare di aver compreso gli errori del passato e avere in massima considerazione le indicazioni che sono arrivate dai cittadini con il voto. E se anche qualcuno preferisce ignorarle, quelle indicazioni sono chiare, i cittadini chiedono un'Europa che sia più concreta, un'Europa che sia meno ideologica. Ma l'errore che si sta per compiere con l'imposizione di questa logica e di una maggioranza tra l'altro fragile e destinata probabilmente ad avere difficoltà nel corso della legislatura è un errore importante, non per la sottoscritta o per il centrodestra e neanche solo per l'Italia, ma per un'Europa che non sembra comprendere la sfida che ha di fronte o che la comprende, ma preferisce in ogni caso dare priorità ad altre cose.